Il lago di Nemi è un piccolo specchio d'acqua incassato nel cratere di un antico vulcano Nemi è un paese piccolo e pittoresco con stretti vicoli su cui si affacciano le botteghe artigiane e variopinti balconi fioriti Famosissime in tutto il mondo a buon diritto sono le sue fragole Rossi rubini dal cuore dolce Fresche, inditanti, golose Accompagnate dalla panna o dal gelato dalla crema o da zucchero e limone o meglio ancora al naturale Per gli abitanti di Nemi rappresentano una perla da custodire gelosamente e proporre nella sua veste migliore Così ogni anno di giugno Nemi dedica una festa alla regina del bosco Un evento di grande impatto visivo superato soltanto dalla mostra dei fiori che si tiene il giorno precedente Grazie a tutti Grazie a tutti.